Cellulare GSM Philips C'è sempre Quando ne avete bisogno Buongiorno eccellenza Buongiorno Qualcosa non va? No, 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 oggi sarebbe il mio compleanno Ah, auguri, e quanti anni? E a occhio e croce, duemila Complimenti, io al massimo gliele davo milleotto Mille e nove, tu, e non è contento? Sì, sì, è che mi aspettavo Una telefonatina, una vestigiola Avevo saputo prima che amavo Sant'Onore E chi è? Quello della torta Però posso offrirle un caffè? Magari qualcosa di speciale, visto l'occasione Lavazza qualità oro Magari? Bello caldo profumato Sì, eccolo là Una bella sorpresa Un caffè di classe? Non so proprio come sdebitarmi Male pare Pietro Ci mancherebbe A proposito, quella nuvoletta vista mare Ci direi Nuovo Chrysler Voyager 2000 Finalmente il 2000 Non so voi, ma io bevo Aperol Comfort di guida Pinto di strada Sicurezza Una legacy Non si stacca mai dalla strada Perché ha quattro ruote motrici Perché è suba Provala gratis dal tuo concessionario Nessuno al mondo Può addestrarti A questo Mortal Kombat In anteprima italiana a questo mese Su Tele più uno Quest'anno lo shopping natalizio Si fa a New York Puoi visitare la Grande Mela Ad un prezzo piccolo piccolo Partendo con Air France da Milano Il 14 novembre O il 21 novembre Puoi regalarti Cinque giorni da sogno Consulta la guida I programmi di novembre O il Teletext Video Più E scopri le altre offerte Riservate agli abbonati di Tele Più Novembre La racchetta diventa protagonista Il fascino di Parigi Verso la finale di Bersin Stoccolta Mosca Amor Tre città Tre appuntamenti da non perdere New York E le donne più forti del mondo 19-24 novembre A noi ATP Finance Tutto il torneo Fino all'ultimo colpo Tele Più 2 Ha sempre la battuta pronta Abbonati a Tele Più Telefonando allo 02748989 Arod ago Levine Matteina Sì Slava